Ciao amici value investor, l'azienda di oggi ha incrementato le vendite negli ultimi 10 anni di circa 37 volte. L'utile netto di quasi 90 volte ha un free cash flow margin superiore al 60% e anche le aspettative dagli analisti per il futuro sono molto positive con vendite e utili previste in crescita a doppia cifra per i prossimi due anni. Ma nonostante questi bei numeri questa azienda è scambiata a solo 15 volte gli utili e il free cash flow previsti per il prossimo anno. E due giorni fa questa azienda ha rilasciato la trimestrale per il Q3 che è stata premiata il giorno successivo dal mercato con un incremento del 15% del prezzo del titolo. Potrebbe essere una buona opportunità di investimento? Analizziamo la trimestrale e parliamone in questo video. L'azienda di cui parlo oggi l'abbiamo già vista diverse volte sul canale, è un'azienda che sapete ho in portafoglio e sto parlando di Evolution. Ovviamente non faccio per l'ennesima volta la presentazione del business, per quello vi rimando alla visione degli altri video su Evolution presenti sul canale oppure al circolo dei Value Investor, la nostra community su Discord dove troverete un'analisi del business in PDF fatta molto bene da alcuni membri del circolo più tutte le considerazioni fatte dalla community su questa azienda. E per entrare nel circolo come sempre vi basta supportare il canale con un piccolo contributo tramite Patreon, link in descrizione. Per chi sapesse proprio zero su questa azienda, sappiate che è leader mondiale nella creazione e conduzione di giochi da casino online che vengono trasmessi in diretta streaming da studi appositamente attrezzati, con croupier professionisti e ambientazioni che riproducono l'atmosfera di un vero casino. Ma questa azienda non guadagna direttamente dal giocatore finale, ma dall'azienda che ha il sito di scommesse. Cioè è un B2B. Evolution fornisce solo i giochi e li conduce in cambio di fee fisse più variabili in base ai guadagni di questi siti. Evolution ha battuto in questa trimestrale le aspettative dagli analisti sia per le revenue che per gli utili. Ma c'è da dire che ha influito molto su questi risultati un evento, una tantum, e cioè un guadagno di quasi 60 milioni di euro derivante dalla riduzione della passività di earn out. Le clausole di earn out sono molto frequenti nelle acquisizioni di aziende. L'azienda acquirente per ridurre il rischio decide con queste clausole che parte del pagamento dell'acquisizione è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali da parte della società acquistata. E nel 2021 Evolution ha acquistato per 450 milioni Big Time Gaming e questa riduzione della passività di earn out indica che Big Time non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di performance stabiliti. E contabilmente questi 60 milioni vanno inseriti in Other Operating Revenue nel conto economico. Quindi da una parte è positivo perché nel breve ha dato una spinta ai utili di Evolution questo evento, ma dall'altra vuol dire che l'acquisizione potrebbe non essere andata bene come negli aspettative. Comunque a livello di revenue, anche escludendo questi 60 milioni, la crescita è stata comunque di quasi il 15% anno su anno, che è un ottimo dato. Anche perché ha avuto un bel po' di casini nel terzo trimestre Evolution. Cioè lo studio operativo in Georgia ha subito uno sciopero organizzato dai sindacati che ha coinvolto circa 550 dipendenti. Il primo agosto un piccolo numero di attivisti affiliati ai sindacati ha iniziato a bloccare illegalmente gli ingressi, vandalizzare edifici, intraprendere azioni violente e molestare i dipendenti che lavoravano. Insomma, non proprio brava gente. Azioni che hanno interrotto quindi le operazioni e costretto Evolution a ridurre la capacità operativa in Georgia a circa il 60% di quello originale. Un livello che cercheranno di mantenere tale e di non aumentare perché la situazione in Georgia con i sindacati è troppo difficile e quindi la capacità operativa persa sarà compensata da altri studi in altri paesi. E come se non bastasse, in Asia Evolution ha subito un attacco di cyber security. In pratica dei pirati informatici riuscivano ad accedere ai giochi di Evolution e rivenderli illegalmente. E questi due episodi hanno influito non solo sulle revenue ma anche sui margini di profitto, soprattutto il casino in Georgia. Però nonostante questi casini, le revenue come detto sono cresciute comunque del 15% ed escludendo l'effetto cambio la crescita è stata addirittura del 19%. A causa di questi problemi i margini sono stati un po' sotto le aspettative ma comunque molto alti con un'ebitat margin al netto dell'episodio una tantum della riduzione di earn out del 68.5%. Davvero molto alto e in linea più o meno con lo storico. Tra l'altro le revenue hanno visto dopo diverse trimestrali anche un bel aumento del segmento RNG ossia i giochi dove non c'è una persona fisica a condurre ma un algoritmo che a random tira fuori combinazioni di numeri e simboli tipo le slot machine ad esempio. E questo è un segmento molto commodity ovviamente dove ultimamente Evolution aveva vendite stagnanti o in leggera decrescita e invece ora sono tornate a crescere grazie al lancio di nuovi giochi. Comunque l'86% del fatturato è fatto sempre dal live casino che è cresciuto del 16% nel trimestre. Le revenue sono cresciute in ogni area geografica sia rispetto a un anno fa ma anche al trimestre precedente e anche l'area geografica che è cresciuta meno l'America Latina potrebbe vedere un boost delle vendite nei prossimi trimestri perché è stato appena aperto un nuovo studio in Colombia oltre all'altro aperto nel trimestre in Repubblica Ceca e per il 2025 sono previsti almeno altri due studi in apertura. Uno sempre in America Latina in Brasile per la precisione e l'altro in Asia nelle Filippine e l'apertura di questi studi è stata resa possibile grazie a quello che il mercato vede invece come un problema ossia le regolamentazioni. Evolution opera soprattutto in mercati non regolamentati ma per l'azienda è questo il vero problema perché la mancanza di regolamentazioni significa incertezze e rischi e a causa di questo Evolution non può ovviamente investire come vorrebbe in questi mercati aprendo ad esempio studi e assumendo persone ma nel momento in cui vengono regolamentati questi mercati e quindi c'è più certezza della legge e su come si deve operare allora può investirci pienamente come è successo in Brasile e le Filippine recentemente e come sta succedendo piano piano anche in Nord America che è un mercato con un potenziale enorme dove Evolution si sta espandendo sempre di più con l'apertura di nuovi studi. quindi Evolution non vede l'ora che i vari paesi regolamentino il gioco d'azzardo anche se con delle restrizioni e limitazioni ma almeno in questo modo sanno quanto è grande il mercato potenziale e possono decidere se investire in maniera decisa e nella earnings call si è detto che prossimamente potrebbe essere un nuovo mercato potenziale la Francia dove si sta discutendo di regolamentare il gioco d'azzardo online. L'utile netto anno su anno come potete vedere ha subito un bel rallentamento ma questo perché da quest'anno l'azienda ha subito un importante aumento della tassazione dal 6.7% dell'anno scorso si è passati al 13.1%. Come potete vedere da questo grafico Evolution è un'incredibile cash machine con un cash conversion straordinario di circa l'85% e il cash flow operativo che sale costantemente. Come viene speso questo cash flow? Circa il 10% va in capex e come potete vedere ha un trend in aumento per finanziare la crescita anche se hanno un po' il freno a mano tirato per due motivi Uno, come detto le regolamentazioni perché bisogna attendere quelle per investire Due, trovare il personale adatto per condurre i live show non è così semplice cioè non è che ci sono milioni e bilioni di Jerry Scotti e Amadeus nel giro per il mondo Siccome è un'azienda che tende ad accumulare cassa perché genera molto cash flow in questo trimestre hanno acquistato 100 milioni di bond da tenere a scadenza per non tenere fermo il cash e fargli rendere qualcosa Poi una parte del cash va in acquisizioni e poi una parte enorme del cash viene restituita agli azionisti sotto forma di dividendi e buyback Allora, sul buyback hanno fatto benissimo a mio avviso perché al momento credo che Evolution viaggi a valutazioni bassissime Sui dividendi ci può stare darne se non ci sono alternative di investimento abbastanza redditizie Ma ho due obiezioni Uno, perché in questo momento storico di prezzi delle azioni così basse non ridurre i dividendi a favore del buyback Due, perché avere una politica dei dividendi così rigida come quella di Evolution che prevede che almeno il 50% dell'utile netto sia dato ogni anno come dividendo È stupida, perché in un anno particolare magari le azioni sono così sottovalutate che converrebbe spostare la maggior parte dell'utile netto sul buyback Oppure perché si presenta un'opportunità di acquisizione importantissima ma servono soldi per portarla a termine E che si fa a quel punto? Si rischia di perdere l'affare perché dobbiamo dare i dividendi? O si usa il debito per farlo perché va mantenuto il dividendo? Insomma, la politica dei dividendi è la cosa che meno mi piace di Evolution Comunque, come avete visto, la trimestrale è andata bene ma con dei problemi perché gli utili sono stati sopra le aspettative perché pompati da un evento, una tantum che quindi non si ripeterà margini un po' sotto le aspettative per i problemi che abbiamo visto con i sindacati in Georgia e la cyber security in Asia che però credo siano problemi di breve e come si giustifica questo più 15% del titolo come reazione del mercato? Si giustifica, secondo me, che il mercato ha visto un'azienda che nonostante questi seri problemi ha generato al netto del ricavo straordinario un più 19% di revenue senza considerare l'effetto cambio che per un'azienda che viaggiava a pie forward di 13 prima della trimestrale è un risultato incredibile cioè, sono troppo bassi questi multipli ma non solo a causa dei problemi in Georgia Evolution per la prima volta ha visto una riduzione del personale trimestre su trimestre e nonostante questa riduzione del personale le vendite sono salite del 15% battendo le stime dagli analisti anche escludendo i ricavi straordinari e anche in leggero aumento rispetto al trimestre precedente e questo è un segnale significativo della scalabilità di questo business infatti il fatturato medio di Evolution per dipendente è aumentato a 36.000 euro da i 35.000 euro del terzo trimestre 2023 e i 33.000 del secondo trimestre del 2024 inoltre il mercato ha visto altre cose positive come l'apertura degli studi che sta andando sempre avanti il segmento RNG che ha mostrato segnale di ripresa il lancio di nuovi giochi sia in live casino che in RNG e se tutto questo lo rapportiamo ai multipli molto bassi la reazione del 15% ci può stare per un'azienda con questa crescita e questi margini poi la domanda è come sempre perché le valutazioni sono così basse? penso sia dovuto ad un mix di cose come il rallentamento della crescita delle revenue che c'è stata ed è un dato oggettivo e ci può stare che i multipli si abbassino per questo ma non credo che possano essere così bassi per un'azienda con questa crescita questi margini, questo cash conversion eccetera poi è chiaro che il fatto che operi in mercati non regolamentati è un rischio oggettivo da considerare e poi c'è ovviamente da considerare il settore in cui opera l'azienda cioè il gioco d'azzardo molto demonizzato e ci sono diversi fondi e investitori istituzionali che non possono investire in questi settori magari lo prevedono proprio da statuto infatti guardate anche i commenti ai precedenti video che ho ricevuto su Evolution gli standard etici che non permettono di comprare aziende che lucrano sulla ludopatia ma investire in aziende del genere pessima cosa Davide finanziaria queste aziende in pratica io e gli azionisti di questa azienda siamo considerati da molti dei mostri pensate quindi per un fondo che vende principalmente la sua immagine per attrarre clienti quanto sia difficile investire in questo settore insomma al di là del fattore etico che penso sia soggettivo perché potrei far passare in 5 secondi come un mostro anche chi investe in McDonald's Coca Cola o Meta ad esempio i rischi oggettivi ci sono come ci sono in ogni investimento però se trovate altre aziende con questi numeri questi fondamentali a questi multipli scrivetemelo pure nei commenti che sarò super felice di darci un'occhiata e fatemi sapere voi come la vedete Evolution dopo questa trimestrale un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide